E' arrivato il tuo momento di forunciare le tue ali di ferro per raggiungere la tua meta che tanto aspettavi. Prima io sì al suo cospetto e a tutti gli invitati intorno a te, plasmare il tuo istinto futuro per una vita di speranza e amore. Tanti auguri Giulia e Manuere da parte di Edo Soletino. Spero che vi piaccia questo verso, ci tenevo tanto a dedicarvelo, più che altro alla piccola principessa, che l'ho vista da piccolina, come si vuol dire, e un bacio, tanta 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 ma tantissimo amore. Ciao!